Buonasera ai nostri telespettatori, vi ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Continuiamo a conoscere più da vicino gli eletti nella dodicesima legislatura regionale con una serie di incontri, di interviste, di approfondimento. Proprio ieri c'è stata l'ufficialità da parte della Corte d'Appello sulla composizione dell'Assemblea, non ci sono stati colpi di scena, sono state anche diramate le preferenze specifiche di ciascuno dei candidati. Uno dei più votati è qui nei nostri studi, riconfermato per la terza volta in Consiglio regionale, Silvio Paolucci. Buonasera Paolucci, candidato per il Partito Democratico nella coalizione del Campolargo nella circoscrizione provinciale di Chieti, dove ha ottenuto, e questi sono proprio i numeri perfetti, ufficiali, ben 8.691 preferenze. Credo che sia quasi un record per il Partito Democratico in provincia di Chieti, anche un buon risultato, oltre che personale, della lista, perché al di là del risultato negativo per voi della elezione del governatore, il centrosinistra, il Campolargo e in particolare il PD possono dire di trovare anche degli spunti, sia pure amari, di soddisfazione da questo voto. Ma assolutamente sì, intanto ovviamente la soddisfazione per il risultato personale, ma in un quadro, in un contesto nel quale il bersaglio principale, l'obiettivo principale, non siamo riusciti ad ottenerlo, a raggiungerlo. È pur vero però che il risultato complessivo ci ha avvicinato e di parecchio anche alla coalizione avversa e pertanto si possono fare sicuramente delle riflessioni sia in senso positivo e chiaramente accendere i riflettori sui limiti che non ci hanno consentito in questa fase di raggiungere il risultato pieno. Per quanto mi riguarda, spero che sia al terzo mandato, l'ultimo per quanto ci riguarda in relazione alle regole statutarie del PD, aver ottenuto nell'ultima occasione il maggior numero di voti è una soddisfazione anche personale, soprattutto di presenza sul territorio e dei tanti, tantissimi che in ogni comune della provincia di Chieti mi hanno sostenuto, lì ringrazio di cuore. Invece che cosa non ha funzionato nel non riuscire a far diventare, soprattutto per quei due abruzzesi su quattro che non sono andati a votare, prevalente il messaggio e soprattutto il programma di Luciano D'Amico? Allora, una serie di riflessioni vanno fatte. Intanto Luciano D'Amico ha rappresentato come figura e quindi come candidato presidente è il punto più di sintesi tra tutti i soggetti politici che si erano riuniti in questo patto per l'Abruzzo. A lui oggi il compito, e noi lo sosterremo, di rappresentare e di trasformare quello che è stato un cartello elettorale con un patto per l'Abruzzo in un progetto politico per i prossimi anni. Ci affidiamo molto a lui e anche il ruolo di chi lo accompagnerà in questa attraversata dell'opposizione dovrà in qualche modo sostenere e sorreggere questo tipo di iniziativa politica dall'opposizione con la leadership di Luciano D'Amico. Per quanto riguarda le riflessioni legate a questo voto, allora almeno alcuni aspetti vorrei ricordare. Il primo, questo progetto, questo campo appunto chiamato cosiddetto largo, purtroppo a livello nazionale non solo non c'è, ma sconta frammentazioni e divisioni ormai da diversi anni, oltre dieci, e quindi poi quando tu lo ribalti a livello locale si paga il prezzo di alcuni pezzi di astensionismo. Vorrei fare riferimento per esempio agli elettori del Movimento 5 Stelle, proprio perché non c'è una piena comprensione di come si possa, tra virgolette, litigare di più a Roma e poi essere d'accordo a livelli territoriali. Questo passaggio, questo sconto, noi purtroppo lo dobbiamo rilevare e c'è, e quindi noi ci affidiamo anche a che a livello nazionale si torni a ragionare in modo più unitario di quanto non si sia fatto in questi ultimi anni e mesi. Secondo punto, ovviamente il lavoro e le regole elettorali che prevedono e prevede per quanto riguarda la nostra regione il ruolo delle liste e dei candidati delle liste, non c'è il voto di giunto. Vorrei ricordare che anche in Sardegna le coalizioni si sono differenziate di circa 6-7 punti. Poi quello che è stato possibile è il ribaltamento sul voto esclusivamente al candidato Presidente anche incrociandolo con i candidati consiglieri di centro-destra. Questo in Abruzzo non è possibile e queste regole elettorali ci debbono far riflettere che probabilmente leggendo i dati e vedendo per esempio in una certa parte della provincia dell'Aquila un distanziamento così enorme che abbiamo bisogno di un insediamento territoriale più apprezzabile. Questo è stato peraltro confermato anche dagli elettori in relazione alle liste del Partito Democratico su cui qualcuno ha anche discusso sul fatto delle ricandidature. Sta di fatto che tutti i suoi, perché lo dico lei è stato capogruppo del PD in Consiglio regionale, tutti i suoi consiglieri regionali sono stati tutti riconfermati dagli elettori, molti con più voti rispetto alla precedente consigliatura, più c'è stato il valore aggiunto di altre candidature che hanno permesso al PD di fare un risultato notevole su tutte e quattro le circoscrizioni, a parte l'Aquila dove appunto lì c'è stato veramente un cappotto da parte del centro-destra. Ecco, questo che significa? Che le regionali sono molto più vicine diciamo alle elezioni comunali per questo meccanismo? E questo che cosa comporta? Glielo chiedo soprattutto in prospettiva di una riforma della legge elettorale su cui sicuramente si aprirà un dibattito all'inizio di questa legislatura. Allora intanto sulla legge elettorale è giusto che si apra all'inizio della legislatura e non alla fine come nella scorsa legislatura. E voi siete pronti a dialogare? Assolutamente sì, perché lo avevamo detto anche nell'undicesima legislatura, laddove ci fosse richiesto all'inizio della legislatura noi saremmo assolutamente d'accordo nel ragionare e nel confrontarci su una nuova legge elettorale. Per quanto invece riguarda la domanda in relazione al radicamento bisogna onestamente rilevare che il modello di elezione quando non c'è il voto di giunto perde la sua caratteristica di voto di opinione, un pochino di voto di opinione come è accaduto per la Todde in Sardegna e purtroppo vale di più chiaramente la relazione che mette in campo sui vari territori e quindi si avvicinano leggermente di più con queste regole alle elezioni amministrative. Da questo punto di vista bisogna fare l'analisi in modo corretto e rilevare che c'è un insediamento maggiore sull'altro campo sul quale hanno investito e lavorato in tal senso e che invece su questo campo, in particolare in alcuni territori della nostra regione c'è ovviamente carenza di insediamento del centro-sinistra, in parte anche del Partito Democratico che comunque relativamente alle altre liste si è distinto meglio in questa tornata elettorale. Un po' riassemblando le liste del 2019 c'era stata una forte frammentazione anche di candidati del PD presso tantissime liste civiche 5 anni fa. E poi ci fu quella legge elettorale nel 2019 che praticamente vi dimezzò i seggi che con questo sistema avreste ottenuto. In ragione appunto di questo che sta ricordando lei del meccanismo elettorale e oggi invece c'è stato un riassemblamento da un lato e anche un incremento del consenso per il Partito Democratico. Ciò non toglie che in alcuni luoghi di questa regione si è conclusi a 70-30 e non è accettabile. Ecco, va aperta una riflessione in provincia dell'Aquila. Proprio in provincia dell'Aquila, così siamo su un tema anche di attualità di queste ore, è forte anche da parte dello stesso Presidente Marsiglio e del Sindaco Biondi il malumore rispetto a questa notizia del blocco del superbonus nelle aree del sisma. Ma il Partito Democratico è pronto alla mobilitazione? Non solo è pronto, ma deve mobilitarsi perché non solo una mannaia per migliaia di progetti, parliamo di oltre 20 mila, ma perché poi in realtà questa famosa filiera del centro-destra dal livello nazionale al livello regione non funziona da nessuna parte. Perdiamo i fondi per la ferrovia, perdiamo i vantaggi legati al superbonus sul sisma, perdiamo i voli e le ultime notizie ci danno di continui tagli per quanto riguarda la possibilità di collegare questa regione. Cosa ha fruttato? La risposta di dire semplicemente che hanno riavuto un consenso al 53% è insufficiente perché il giudizio resta e per quanto mi riguarda è questo. Da questo punto di vista vorrei anche ricordare che il collegio dell'Aquila Teramo è anche dove è eletto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La sanità è stato uno dei temi su cui lei in particolare ha dato vita a una serie di critiche nei confronti della giunta regionale, lei è stato anche alla luce del risultato del 10 marzo forse credo l'unico assessore regionale della sanità rieletto o uno dei pochi o peraltro uno di quelli che si è ripresentato e è stato rieletto. Ma al di là di questi dati insomma legati al consenso personale che ripeto solitamente non cresce quando si fanno scelte sulla sanità, lei pensa che in questa consigliatura, poi in questa legislatura debbano venire al pettine, debbano trovare una risoluzione anche con il consenso e se possibile con l'operatività di tutti i problemi reali dell'offerta sanitaria in questa regione, cioè non possiamo arrivare tra cinque anni ancora con liste di attesa a questo livello anche con una mobilità passiva così penalizzante? Sono molto sincero, sono davvero preoccupato sul fronte sanità per la vittoria di Marsiglio e di questo centrodestra. Ovviamente per quanto riguarda il mio dato, soddisfatto che ripetutamente un ex assessore della sanità è stato confermato e credo che dopo Anna Nenna Antonio sia l'unico e quindi certamente questo dato personale smentisce anche un certo tipo di propaganda di questi lunghi anni. Dall'altro però davvero sono preoccupato perché i dati di una forte privatizzazione della sanità, dove per privatizzazione, lo dico ancora, significa mettere mano alla carta di credito oggi per poter avere accesso alle cure, alla diagnostica o ad alcune prestazioni, si incrementerà. Da un lato noi abbiamo approvato, cioè questo governo regionale, un piano sanitario che non sarà mai attuato, dall'altro hanno un deficit enorme strutturale, dall'altro lato ancora hanno detto di sì all'autonomia differenziata e per questo sono drammaticamente preoccupato per la comunità abruzzese, e dall'altro ancora non hanno messo a livello nazionale risorse sufficienti per difendere il sistema sanitario regionale pubblico. Per cui davvero da questo punto di vista occorre fare un'opposizione durissima, a partire da alcune proposte da mettere in campo subito e io la firmerò immediatamente come disegno di legge. Il primo, no all'autonomia differenziata. Marsilio ha detto sì, noi lo porteremo a dire di no, perché significa togliere risorse alle prestazioni e alle cure degli abruzzesi. Due, noi vogliamo presentare un disegno di legge costituzionale che ho presentato nella scorsa legislatura e non hanno voluto discutere. Questa volta lo ripresenteremo con l'ambizione di discutere per vincolare la spesa sanitaria pubblica al 7,5% del PIL in Costituzione. Ed è un modo di difendere la sanità pubblica e ovviamente daremo luogo a tutte quelle battaglie per difendere il diritto universale alla salute che è molto compromesso e che penso che in questi cinque anni, se non ci fosse un'opposizione dura, sarebbe ancora più compromesso. O rischia di diventarlo ancora di più. Più in generale, ecco, i prossimi cinque anni la legislatura che si apre sarà, lo ha accennato lei anche prima, sarà un banco di prova importante per capire se Luciano D'Amico, da figura riconosciuta, capace comunque di unire le forze in Abruzzo contro il centro-destra, diventerà anche un leader politico di questa coalizione sulle battaglie di ogni giorno. Lei come vede il futuro di Luciano D'Amico? Io lo aiuterò a tal fine, come è giusto che sia, e credo che i nostri ruoli debbano essere in qualche modo curvati, se vogliamo, per consentire che Luciano D'Amico trasformi quello che è stato un patto elettorale in un progetto politico di lungo respiro. Anche per riprovarci ovviamente tra qualche anno e poi di fronte abbiamo delle amministrative molto importanti, non dimentichiamoci che si vota per esempio nel comune di Pescara, Montesilvano, Giulianova, solo per citare i più grandi che vanno al voto tra 8, 9 e 10 settimane, e che a Pescara e Giulianova nelle regionali abbiamo riportato la maggioranza del consenso, e quindi l'ambizione di riuscire a vincere in ambedue le città deve essere propria del campo che abbiamo rappresentato anche le regionali. Fermo restando che non debba essere un campo virtuale, fatto soltanto di accordi tra segreterie e di partiti, perché appunto i cittadini queste cose non le capiscono, spesso sono anche controproducenti. Da questo punto di vista la lezione delle regionali può essere utile proprio in questi mesi? È utile in questi mesi e secondo me un risultato buono del Partito Democratico alle europee consentirà di trasformare quello che rischia di essere eletto solo come un patto elettorale, che quindi poi sconta stenzionismo maggiore, come è evidente, in una visione e quindi in un progetto politico. Ci si deve lavorare per tempo e insieme deve essere connesso anche il necessario rinnovamento di una classe dirigente che sul territorio deve insediarsi. A modo loro, Fratelli d'Italia, soprattutto in una parte della provincia e della regione, parlo della provincia dell'Aquila, lo ha fatto in questi anni. Noi lo abbiamo fatto solo parzialmente e comunque in modo insufficiente. Queste letture vanno fatte, progetto e visione politica da un lato, quindi non solo cartello elettorale, dall'altro un radicamento territoriale, perché lo dico in modo improprio giocando un po' sulle regole dello sport. Le regole elettorali delle regionali abruzzesi, se non si cambiano, sono quelle del rugby, cioè uno spintonamento sul campo di battaglia nei vari territori. Non sono altre regole, quindi devi predisporti anche a saper vincere con le regole che ci sono. E appunto per superare queste regole probabilmente si ritornerà a parlare di un superamento, oltre che del sistema elettorale, rendendolo un po' più regionale. Anche un superamento del ruolo attuale, su questo si potrebbe aprire una riflessione bipartisan, del consigliere regionale. Spesso molti dimenticano che siete legislatori più che distributori di soldi nei relativi territori. Per chiederle nello specifico, basta con le leggi mancia, siete pronti a riproporre questo tema e soprattutto a discuterlo con la maggioranza? Io sono molto franco, sono sempre stato molto contrario. Quando ho svolto la funzione di governo da sessore al bilancio non le ho mai consentite a dire la verità. E all'opposizione non mi sono mai predisposto a dare a mance alle varie associazioni. Però devo pure rilevare che un piccolo consenso di guadagno elettorale, soprattutto nel campo avverso, lo ha prodotto. E io penso che non sia la funzione del legislatore. Sono molto contrario e contrariato, anche oltre l'opposizione che noi stessi o la maggioranza di noi stessi ha fatto su questo tema. Qualcuno, il riferimento è esplicito perché l'ha fatto proprio in questi studi, come il deputato Luciano D'Alfonso ha detto che questo è un tema che probabilmente ha anche in parte condizionato il risultato elettorale. Lei è d'accordo? Sì, in piccola parte sì, non in stragrande maggioranza, anche perché poi alla fine avevano, essendo di là una maggioranza che su questi temi, diciamo in qualche modo, si incrementava anche il consenso dentro l'aula, però c'era una maggioranza, quindi l'avrebbero comunque portata a casa quel tipo di impostazione. Però concordo che bisogna essere molto duri su questi temi, intanto perché non è la funzione propria del programmatore e del legislatore, e dall'altro perché è evidente che in qualche modo ha dopato, tra virgolette, il risultato elettorale dall'altra parte. Non credo che sia stato decisivo, però sicuramente alcuni voti sono stati spostati da questo modo di gestire il Consiglio regionale. Ultima domanda, noi questa sera avremo ospite il Presidente della Regione Marco Marsilio, gli faremo una domanda ovviamente sulla sua nuova giunta, naturalmente lui non risponderà, perché è giusto che è così, chiunque fosse stato, ovviamente ci sono tutte le interlocuzioni tra i partiti che si svolgeranno nei prossimi giorni, ma qual è sulla nuova giunta la più grande curiosità di Silvio Paolucci, glielo dico anche da navigato esperto della politica regionale? Sono sincero, quello che sceglierà di fare sulla sanità, perché non è irrilevante su questo tema, credo che sarà un'aggiunta in continuità prevalentemente, visti anche i risultati dei singoli assessori. Però non è irrilevante quello che accadrà proprio sulla sanità, perché quello che hanno lasciato nella coda della legislatura sono tante promesse attese da un lato e tanto dolore delle persone dall'altro per quanto riguarda l'assenza, la carenza di servizi e il ricorso alla carta di credito, come dicevo prima. Quindi la scelta sulla sanità non sarà assolutamente irrilevante. Voglio proprio sapere e capire da lui se, per esempio, il tema di continuità ripescherà come assessore alla sanità una persona non eletta oppure invece metterà in campo una novità per rispondere alle tante attese. Steremo a vedere. Grazie Silvio Paolucci, buon lavoro anche a lei per la dodicesima legislatura, grazie ai nostri telespettatori, appunto appuntamento anche a questa sera alle ore 22 con Il Fatto e sentiremo il Presidente della Regione. Arrivederci.